Nuovo provvedimento disciplinare al Grande Fratello VIP 2021. I vipponi hanno visto ridursi ulteriormente il loro budget settimanale. Come ribadisce l'ultimo comunicato della produzione letto da Carmen Russo e Manila Naz, questa settimana i concorrenti avranno a disposizione per la spesa solo 310 euro anziché 380. 70 euro in meno che faranno la differenza sul gruppo. Che già qualche settimana fa ha dovuto fare i conti con una penalizzazione a causa di un freeze non rispettato in diretta da Francesco. Il motivo della nuova sanzione? Alcuni concorrenti hanno infranto la regola sull'utilizzo degli occhiali da sole nella casa più spiata d'Italia. A quanto pare a non rispettare il regolamento sono stati due concorrenti in particolare. Sofico Degoni e Gian Maria Antinò. Tanto che Manila Nazaro, dopo aver letto con Carmen Russo il comunicato del Grande Fratello VIP, non ha potuto fare a meno di avvisare i due. Mangeranno di meno questa settimana. Gli occhiali da sole possono essere usati all'interno del bunker di Cinecittà solo se fungono anche da occhiali da vista. A coloro che non hanno l'esigenza di ricorrere agli occhiali per vedere bene, è proibito da regolamento indossare gli occhiali da sole mentre si è in casa. Nell'edizione in corso pare che più volte Sofico Degoni e Gian Maria Antinolfi abbiano utilizzato gli occhiali da sole classici in casa portando così ad una riduzione del budget settimanale.